Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente. Che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi, come legge anche dal titolo, parliamo di abitudini, ma non quelle abitudini comportamentali, non so, rimetto a posto la stanza, la morning routine, la che ne so io, andare a fare una passeggiata, una corsa la mattina o la sera per stare meglio fisicamente. Non parliamo di abitudini in questo senso, ma parliamo di abitudini mentali, che è la cosa che poi ci interessa di più e che in fondo ci influenza anche. E quindi butteremo insieme le nostre abitudini mentali con quello che è il concetto dell'autostima, che è un argomento che secondo me è sempre importante prendere in considerazione, perché l'autostima in psicologia è trasversale rispetto a tutto ciò che facciamo. Poi anche se ci fermiamo un attimo a pensare, a riflettere sulla nostra vita, possiamo anche noi testimoniare che questo è vero, no? E io quello che vorrei fare oggi insieme con voi è cercare anche di sfatare un mito o in realtà risolvere un rebus. E vi dico, io l'ho riassunto così, no? Ma nasce prima l'uovo o la gallina? Nel senso che tante volte si dice che per fare le cose bisogna avere autostima, ma poi l'autostima c'è chi dice che si crea nel fare le cose. E quindi come se ne esce da sto rebus? E a sciogliere questo rebus non sarò qui da solo in questo episodio del podcast, ma avrò la fortuna di avere insieme con me anche i ragazzi di Sfide Academy. Nel momento voi non li vedete, ma noi stiamo registrando l'episodio del podcast insieme. Io infatti vorrò salutare subito Luca, Maria, Massimo e Lucilla. Se ce la fate ragazzi, restate qui attivi fino a una seconda parte del podcast in cui vi piacerebbe anche da parte vostra sapere la vostra esperienza per condividerla anche con tutte le menti libere che risolteranno. Ciao ragazzi, non perdiamo altro tempo, entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e cerchiamo di capire quelle che secondo me, o almeno dal mio punto di vista, sono 5 abitudini che ci impediscono di avere stima di noi stessi ogni giorno. Eccoci qui, allora, un attimino con calma però, perché lo so che tu vorresti subito avere le grandi soluzioni in mano e partire per il grande viaggio dell'autostima, però prima di tutto dobbiamo sfatare un premito in un certo senso, perché forse ti sorprenderà, ma tante volte noi consideriamo e scriviamo le persone che hanno stima come esseri invulnerabili e divili, in qualche modo. Cioè, chi ha l'autostima ha veramente vinto nella vita, e quindi tante volte entriamo nell'ottica per cui, ma come ha fatto? Cominciamo a considerare l'autostima come, non so, il frutto magico che soltanto alcune persone hanno avuto la possibilità di ricevere e di gustare. Invece no, quindi ti sorprenderà, ti scioccherà sapere che in realtà chi ha autostima non è invulnerabile, ai momenti no, non è invulnerabile alle situazioni difficili, allo stress, anche ai traumi, o anche ai lutti, insomma, ai momenti piuttosti della vita. Ecco, non hanno sconti rispetto a noi, ma la vera differenza che c'è tra una persona che ha un'autostima solida, buona, costruita nel tempo, e una persona che invece ha una cattiva autostima, una bassa autostima, ecco, mettiamola così, meglio così, che una cattiva autostima. La vera differenza sta nel fatto che mentre chi ha una cattiva autostima, una bassa autostima, ancora il proprio valore personale all'esito delle cose che fa, e quindi ogni volta c'è sempre un ricalcolo, ogni cosa che succede c'è sempre un ricalcolo della propria autostima, quindi è come un valore impazzito, come la borsa, no? Se la borsa va bene, allora il valore dell'autostima schizza in alto, se le cose ti vanno, se la giornata inizia a volere giusto, allora sei piena d'autostima, se le cose vanno in basso, allora sei in basso d'autostima, ecco. Questo è quello che fa chi, in qualche maniera, vive una bassa autostima, ha ancora il proprio valore personale appunto a quello che accade intorno a lui. Questa è la grande differenza, perché invece chi ha una buona autostima semplicemente non mette mai in discussione il proprio valore personale. Quindi se ci potesse essere già un primo grande macro consiglio che potremmo prendere in considerazione è proprio questo, cioè di svincolare quello che accade, quello che facciamo, i nostri comportamenti, l'esito delle nostre azioni, dal nostro valore personale. Lo so che tu dirai, ma è impossibile farlo, perché è quello che ti hanno insegnato a fare da quando sei nato, cioè tu da quando sei atterrato nel pianeta Terra, la tua mente ha come prendere una forma, che è quella della valutazione. Ecco perché chi poi soffre di una bassa autostima è evitabile che replica questo principio, per cui ancora il proprio valore personale all'esito delle cose che fa. Quindi la prima cosa importante per cominciare ad avere una buona autostima, o quantomeno in quella direzione, è svincolare semplicemente il tuo valore personale, non metterlo in discussione. Cioè tu sei ok a prescindere da quello che fai, a prescindere da come fai le cose, sei ok. Ok, poi, e qui rispondo subito al primo grande, no, non so, la prima grande obiezione. E quindi, ah là io posso fare le cose di merda e allora vado bene comunque. No, cioè le cose e imparare a farle meglio, è fuori discussione. E facendole meglio aumenta anche la percezione di un altro aspetto dell'autostima. E adesso andiamo a parlare, perché non stiamo parlando veramente di autostima. Ma il fatto di pensare a te e di te sempre e comunque bene, è un elemento che contraddistingue le perne che hanno un'autostima. È un punto di partenza. Quindi, è questo il vero problema, no? Cioè questo è il vero punto. Non considera chi ha una buona autostima i successi come un mezzo indispensabile per ritenersi degno di esistere. E quindi, inevitabilmente, non lascia che gli insuccessi condizionino ciò che pensa di se stesso. Questa è la grande differenza tra chi ha una buona autostima e chi ha una bassa autostima. Però, ecco, vi ripeto, non so che voi lo sapete, siete tutti amanti della psicologia e della crescita personale, quindi avete già in tasca la definizione di autostima, ma è sempre buono parlarne, perché voglio fare prima di tutto una grande distinzione che, se volentieri, si perde. Allora, l'autostima, questa parola, che ormai è entrata nel nostro linguaggio, lessico quotidiano, se ne è più blog, sui social, in tv, insomma, chiunque parla di autostima, no, dovunque quindi puoi trovare, no, i consigli per fare pace con te stesso, insomma, cinque passi per l'autostima di... Ecco, quello che vorrei dire è che c'è un malinteso che dobbiamo mettere subito in chiaro, per non generare confusione. Cioè, non dobbiamo equiparare, cioè sovrapporre, il concetto di autostima alla fiducia nelle proprie capacità. Cioè, avere autostima e avere fiducia nelle proprie capacità non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Lo so che sembra controintuitivo e non è necessario separare queste due cose, perché vedi, andiamo a quello che dicevamo prima, perché se l'autostima fosse la fiducia nelle tue capacità, quando vedi che le cose non vanno, e tu cominci a dire, io non sono capace, e quindi l'autostima va giù a picco. Quindi, quello di cui stiamo parlando non è autostima. Una cosa è l'autostima, una cosa è la fiducia nelle proprie capacità. Quindi, sono sinonimi, in un certo senso, nella nostra mente, ma dobbiamo imparare a tenerli distanziati. Adesso andiamo un pochino sul punto. Cioè, reputarsi in grado di fare qualcosa, di saper fronteggiare una nuova sfida, di sapersi adattare a una situazione, oppure il reputarsi in grado di superare una difficoltà. No? Abbiamo detto che non è autostima, ma là dici, ma te, troppo, eh? È il senso di auto-efficacia. Sono due concetti psicologici diversi che interagiscono tra di loro, ma non sono la stessa cosa. Quando tu, per esempio, facciamo degli esempi pratici, per capirci, no? No, che ne so. Confidare di essere capaci di sostenere un colloquio di lavoro, per esempio. Oppure, non so, so che posso e sono in grado di creare nuove amicizie, quando, per esempio, vado in un contesto nuovo. Oppure, so e confido sulle mie capacità di imparare un nuovo mestiere, di imparare una nuova mansione al lavoro, di imparare una nuova capacità. Io, per esempio, in questo momento, sto registrando questo podcast all'interno della streaming, nella White Rabbit Streaming House. C'è un mixer che io non conosco e ho dovuto sbattere la testa per capire come funziona. Adesso sto registrando proprio con il microfono del White Rabbit per non accontentarmi del microfonino della cucchia. Cosa voglio dire? Che all'inizio, è chiaro, cioè, è stato difficile. Sono entrato anche nel panico, inizialmente, perché è un mixer che non conosco, io sono abituato ai microfoni, quelli USB. Vabbè, adesso non vado nel tecnico, però, cioè, che metti e vai, vai tranquillo. Per imparare questa cosa, c'è voluto dire sicuramente del tempo e dell'esperienza, ma qual è il concetto? Quando io ho approcciato a questo mixer, non stavo facendo affidamento alla mia autostima, ma stavo facendo al mio senso di autoefficacia, che ha a che fare appunto con il confidare nelle proprie capacità. L'autostima, invece, non dipende in qualche maniera dai mezzi o dalle risorse che richiede di possedere, ma da ciò che senti di te stesso, o di te stesso. lo ripeto bene, l'autostima non ha, non dipende da mezzi o dalle risorse che tu ritieni di possedere come persona, che puoi coltivare e puoi aumentare nel tempo, ma dipende da ciò che senti rispetto a te stesso. Cioè, su ciò che tu senti di essere come uomo, come donna. Se questa definizione ti sembra poco definita, poco chiara, adesso ci andiamo un pochino più a ritagliare i confini, per capirlo meglio. Quindi resta in ascolto di questo audio, di questo podcast, perché ne parliamo. Allora, parliamo dalle origini, si forma intanto l'autostima, visto che dobbiamo parlare di autostima. L'autostima è sostanzialmente una narrazione, a me piace pensarla così, cioè come una narrazione che facciamo di noi stessi. spesso e volentieri, noi siamo abituati, io per esempio, per far entrare le persone all'interno del cartegra, ma tutte le persone io gli chiedo, sì, ma tu chi sei? Chi sei tu? Che cosa fai nella tua vita? E tante persone mi hanno risposto, e anche giustamente, che la risposta alla domanda a chi sono non è mica facile. Però noi solitamente cosa facciamo? Cominciamo a dire chi siamo in base alle nostre caratteristiche e alle nostre competenze. Ma il problema è che le nostre caratteristiche ci sono state in qualche maniera raccontate dagli altri. Cioè, i bambini, se tu gli chiedi chi sei, in un certo senso non ti sanno ben rispondere. E va bene così, no? In qualche maniera. Perché? Perché ancora in quel momento non hanno sviluppato quello che in psicologia si chiama il concetto di sé, il senso di sé. Un bambino non ce l'ha. Piano piano, per fortuna o per sfortuna, in qualche maniera piano piano lo sviluppa nel corso del tempo, ma quando noi ci descriviamo in qualche maniera stiamo narrando, stiamo facendo un racconto di noi stessi rispetto a quello che gli altri ci hanno detto che noi siamo. In qualche maniera, quindi, una persona, quando si descrive, quando narra se stessa, quindi quando appare la sua autostima, cioè si definisce in base a come qualcuno ha parlato di te, no? Come tre ti definisce, come tuo padre ti ha definito, come il tuo amico ti ha definito, come l'insegnante magari ti ha definito. Facciamo in qualche modo un mash-up di quello che ci è stato detto, nel bene e nel male, e quella la consideriamo una narrazione. Quella narrazione agisce sul nostro senso di esistere e quindi sulla nostra autostima. perché anche tu, in qualche maniera, se ci pensi, hai un racconto, fai un racconto di te, no? E questo racconto può parlare di te come di una persona apprezzabile e amabile oppure addirittura, no? Puoi raccontare di te come una persona sbagliata, come una persona immeritevole di affetto oppure di una persona che in che maniera si aspetta, no? Di essere criticata o rimproverata per le proprie mancanze. E quindi cosa succede? Che giorno dopo giorno questa narrazione, questo racconto, si arricchisce, ma si arricchisce di piccoli pezzetti di condizionamento. Cioè noi diventiamo in qualche maniera condizionati dal modo di sentire come gli altri ci vedono. E quindi noi uniformiamo il nostro essere in ciò che ci è stato detto su di noi. No? Poi nell'interazione con le persone più grandi quando siamo piccoli, i nostri genitori, i nostri insegnanti e così via, no? In qualche maniera impariamo sempre di più a finire noi stessi attraverso questo racconto. In fondo, quindi, la qualità del rapporto con noi stessi che è quindi l'autostima dipende da come siamo strati anche trattati durante i nostri primi anni di vita. Ecco perché noi psicologi e psicologi stiamo tanto in fissa col passato. Prima devi pensare dove vuoi andare nel futuro fermati un attimo a guardare il tuo passato. Perché cosa ti hanno detto di te? Cosa hai imparato su di te? Che tipo di narrazione fai di te stesso, di te stessa? Che termini utilizzi per raccontarti, per rispondere alla domanda a chi sei? C'hai mai pensato? Ti sei mai fermato a pensarci? Quindi, cosa succede? Che sentiremo di meritare amore se ci siamo sentiti amati? Ci aspettiamo in qualche maniera? Aiuto se stiamo stati ben accuditi? sapremo anche addirittura chiedere aiuto se in origine chi avrebbe dovuto proteggerci, sicuramente i nostri genitori, hanno svolto un compito in maniera affidabile. Quindi, determinate esperienze riducono il bambino a formarsi un'idea piano piano, a volte anche critica o disprezzante di se stesso. Ma dove voglio arrivare, Matteo? Come se ne esce? Come se ne esce l'accento su questo aspetto che penso che in qualche maniera poi non credo che sia stato illuminante tutti quanti la mela non casca mai troppo lontano dall'albero. Quindi come se ne esce? Beh, in qualche maniera chiediti come sei stato cresciuto. Hai trascorso un'infanzia nella trascuratezza? Forse in qualche maniera oggi puoi fare una narrazione diversa. che tipo di infanzia hai avuto? Cioè che cosa ti è stato raccontato? Che racconto hai creato piano piano nella tua testa, nel tuo cuore? Perché magari hai trascorso un'infanzia nella trascuratezza come dicevamo ma forse non è perché sei tu immeditevole d'amore. Magari sei stato criticato spesso quando eri piccolo ma non è scontato che la causa fossero veramente i tuoi difetti. Quel racconto che è dentro di te in fondo la tua storia potrebbe non raccontare la verità assoluta perché noi quando viviamo certe esperienze da piccoli quando per esempio qualcuno ci critica da piccoli non siamo in grado di distinguere bene se quella persona magari sta esprimendo magari un proprio processo un proprio vissuto cioè la faccio la faccio facile un bambino quando il padre o la madre gli arriva e magari lo aggredisce lo rimprovera o altro ma quel bambino mica sa che giornata c'ha avuto il papà che giornata c'ha avuto la mamma non può sapere e non deve neanche però non è in grado di distinguere questa cosa il problema però è che in quel momento il bambino subendo l'aggressione impara ad essere aggredito cioè non è detto che quello che tu dai per scontato essere stato no quindi sei stato spesso criticato non è detto che venivi criticato per le tue mancanze perché per i tuoi difetti ma magari quella critica è arrivata per un fattore di stress che non c'entrava nulla con te ma con la vita dei tuoi genitori quindi la prima cosa è mettere a volte anche un po' in discussione quello che è stato perché noi ci abituiamo a credere molto fermamente a quella che è stata la spesa e poi cominciamo a sentirla come guida interiore quindi se sono stato criticato io sono sbagliato e quindi nel mondo andiamo con questo presupposto con questa narrazione nostra personale ecco perché una cattiva autostima in qualche maniera ha a che fare con la nostra storia ora ci sono poi tanti modi per manifestare in qualche maniera l'autostima per esempio una persona che abbassa l'autostima tante volte la identificiamo come una persona che magari non si sente all'altezza non si sente all'altezza delle cose che deve fare e allora tende magari a accontentarsi di qualcosa di irraggiungibile perché in realtà non ha la forza di mettersi in discussione ma in realtà ci avete mai pensato che non è sempre così perché anche le persone molto spavalde anche le persone che hanno sembrano dei grandi dominatori nel gruppo nelle situazioni possono avere comunque a che fare con un senso di basso di autostima perché anche se è strano a dirsi questo fatto di essere sempre al centro dell'attenzione poi è un modo di reagire a un racconto di sé poco appagante cioè in qualche maniera chi si vede pieno di difetti cercherà sempre di sembrare perfetto chi teme che gli altri lo giudichino diventa lui per primo il pericolo il rifiutante cioè chi si percepisce immeritevole di considerazione cosa fa? fa di tutto per apparire quindi vedete che anche dall'esterno non è detto che la persona che ci sembra ci risulta essere super ok in realtà ha una buona autostima l'atteggiamento tante volte vediamo queste persone un po' spavalde un po' superbe un po' competitive potrebbe sempre fare a capo a un desiderio di rivalsa profonda che viene dalla propria storia cioè la fame di apprezzamento la fame che abbiamo tutti il conoscimento può essere il tentativo in qualche maniera di silenziare tremende storie del nostro passato dove non eravamo degni di essere visti dove non siamo stati visti e quindi andiamo alla ricerca sempre di apprezzamenti allora dici Matteo vabbè ma tutto sto casino in testa abbiamo fatto la serie HB quindi come si comporta una persona che ha una stima una buona autostima come la riconosciamo? sappiate che le persone che hanno una buona autostima non agiscono in maniera prepotente né cercano di sottomettere gli altri perché? perché hanno ben chiari quali sono i propri i propri bisogni e sai che anche gli altri ce l'hanno anche una persona con una buona autostima si manifesta e utilizza le sue doti le sue capacità le sue abilità per realizzare il proprio potenziale e non per suscitare l'invidia degli altri oppure non sbandiera i propri trionfi ma nello stesso tempo non nasconde neanche i propri fallimenti una persona con una buona autostima sa anche apprezzare e gradisce l'approvazione degli altri ma le sue azioni non sono fondate solo per raggiungere l'approvazione degli altri capite la differenza una persona con una buona autostima sa anche cambiare punto di vista sa anche cambiare idea si sa mettere in discussione ma nello stesso tempo sa anche restare solido nella propria scelta nella propria opinione se sa che è importante per lui non so se conosci persone con una buona autostima se magari questa descrizione ti ha fatto venire in mente qualcuno no? cioè perché perché l'autostima quella autentica è rara ragazzi non è una cosa che si fa facilissimo perché tutti quanti vediamo da un nostro storico però quando la incontri le persone con una buona autostima puoi riconoscere dalla serenità con la quale si muovono nell'ambiente e dal comportamento che traspare perché si sentono in qualche maniera non in dovere sempre ogni volta di ostentare i propri medi allora andiamo alle cinque abitudini di cui abbiamo parlato di una bassa autostima perché io credo che questo è quello che poi importa in queste quattro barra cinque abitudini negative tra virgolette si nascondono poi dei consigli che voglio lasciarti e poi andiamo anche ragazzi dell'accademy che sono qui pazientemente ad aspettare e stanno scalpitando per dare anche il loro punto di vista al termine di queste cose ce lo gustiamo fra pochissimo allora la prima grande qual è il primo grande problema qual è la prima grande abitudine è che la nostra mente la mente umana è abituata a giudicare quindi noi non possiamo fare a meno di giudicare anche in questo momento che stai ascoltando questo episodio stai giudicando quello che io sto dicendo e stai cercando di capire se sto dicendo una marea di frottole se sto facendo già perdere venti minuti della tua vita oppure se quello che sto dicendo si incastra da qualche parte con la tua esperienza e come ti puoi aiutare quindi in qualsiasi momento noi giudichiamo il problema qual è è che la nostra mente giudica in maniera tante volte semplificando la complessità esterna e quindi andiamo a incasellare tante volte la realtà e le esperienze che facciamo le situazioni le persone noi stessi in modo ecotomico ecco in modo binario o tutto o nulla cioè se ho questa cosa allora se questo episodio è un episodio perfetto allora il podcast liberamente è un podcast buono se questo episodio va male allora è tutto quanto è un disastro quindi ho tutto nulla oppure bello e brutto io sono bello o sono brutto cioè non ci stanno via dei mezzi oppure ti sento adeguato o inadeguato sono degno o sono indegno ecco la nostra mente sappi che ha queste abitudini cioè quella di iper semplificare l'esperienza e questo è molto è molto problematico perché in realtà la nostra esperienza ha una complessità maggiore quindi dici Matteo ma quindi qual è il consiglio cosa si può fare beh io te lo dico adesso che lo sai non puoi più fare a meno di notarlo questa è una cosa che dico sempre anche ai miei pazienti quando le persone scoprono un loro processo di funzionamento adesso e quindi cosa posso fare beh intanto non puoi più fare a meno di notarla questa cosa perché adesso hai capito funzioni quindi se sai che il tuo cervello va in modalità iper semplificata quindi dicotomica binaria sulle cose il consiglio che ti do è che ogni volta che emetti un giudizio negativo su te stesso fermati fermi un attimo cioè sforzati a guardare la complessità dell'esperienza che stai facendo sforzati a trasformare anche il giudizio che stai emettendo tante volte la sentenza che stai emettendo su te stesso su te stessa cercando di cogliere anche degli aspetti positivi perché proprio perché appunto la nostra mente va on on off tante volte come se è stato bene come se è stato male cerchiamo quindi in maniera intenzionale e consapevole di cercare la sfumatura la complessità dell'esperienza io per esempio in questo momento sto organizzando il festival dell'analisi transazionale e in esperienza di organizzazione ci sono delle cose che sono andate molto bene altre che stanno andando con più difficoltà e quindi non è facile uscire io sto combattendo in questa settimana perché ormai manca una settimana il 7 e l'8 di maggio siamo arrivati praticamente avrà vita questa seconda edizione del festival del transazionale e io sto combattendo intenzionalmente con questa abitudine nella mia testa a giudicare che quello che ho fatto è bene ma quello che ho fatto non è bene è male quindi dobbiamo entrare in questa disputa non accontentarci di un output troppo facile insomma questa è un'abitudine della nostra mente di giudicare ma in modalità binaria non accontentiamoci poi una seconda cosa importante è che noi anche in questo senso un'abitudine mentale ce l'abbiamo innescata da sempre è il paragone con gli altri paragone con l'esterno paragonarti a un effetto a un impatto enorme su la tua autostima e in qualche maniera c'è l'abitudine a paragonarsi fatto in maniera ininterrotta in maniera compulsiva cioè non può far altro che trasformarsi in uno strumento di autopunizione cioè non si va troppo lontani se trasformi il paragonarti con gli altri in qualcosa che fai sempre e non ci metti mai mano sappi che il paragonarti agli altri non sarà uno strumento di crescita e costruttivo ma sarà sempre comunque uno strumento di autopunizione di autotortura cioè conosco tantissime persone che usano proprio il paragone per farsi del male per tenersi poi in fondo anche bloccati in quello che sono attualmente quindi quello è il consiglio che voglio darti usa il paragone quindi questa questa abitudine mentale a tuo vantaggio in che modo confrontandoti non con i risultati degli altri ma con il viaggio cioè non ti dimenticare che quando vai su Instagram e vedi che ne so io per esempio sono un podcaster vedo dei podcaster americani e dico oh mio Dio fantastici il mio è veramente uno schifo io ancora che sto con il microfonino che ancora non so collegare un mixer e vedo quelli e aspetta la cosa che la cosa che faccio è interrompere subito questo processo di paragone che sta utilizzando solo come strumento di autotortura e mi dico ok ma qual è il viaggio cioè vediamo un pochino se c'è qualcuno che racconta come ha trasformato per esempio il proprio studio di registrazione e come posso imparare io dalla sua esperienza quindi usiamo il paragone come strumento a nostro vantaggio non concentriamoci sempre e comunque soltanto sull'output cioè penso a una persona che ogni volta che la guardi su Instagram e mi dici oh mio Dio guarda questa o guarda questo guarda a che punto a che livello no fermati sappi che in quel momento stai all'interno di un bias cognitivo mentale che è quello del paragonarti sempre agli altri che va bene ma se lo usi lo metti in leva della tua crescita in che modo quali sono anziché dire oh mio Dio come no quanto faccio schifo rispetto a quella persona chiediti sempre cosa può fare per realizzare che io quello che lui sta facendo cioè quali sono i passaggi che devo fare per sviluppare quella competenza per sviluppare quell'attività per sviluppare quello stile di vita per sviluppare quella modalità no di interazione con gli altri cioè non ti fermare a dire ecco anche qua no applicando questi due bias ok quello è perfetto io faccio schifo quindi bias dell'inizio con la combo del paragone fermati cerca di osservare non sapete quanto io sono cambiato da quando ho scelto i miei mentori e ho cominciato a guardare non più al risultato ma guardare mentre fanno il risultato mentre realizzano quello che realizzano con un occhio più più antico il paragone mi ha permesso anche di fatto di creare un podcast non lo sapevo fare ho imparato non fermandomi a dire io non lo so fare lui lo sa fare no aspetta guardiamo il viaggio cosa sta facendo quali sono i passaggi che io stesso devo fare per sviluppare quella competenza quindi questo è il secondo punto una terza abitudine che anche tu sicuramente hai è la no di volersi di più dall'esperienza ora non voglio andare nella chi si accontenta god però quello che voglio dire è che sotto la spinta della volontà di emergere e quindi da questa insoddisfazione profonda questa insoddisfazione è potente motore per la crescita secondo me cioè il non sentirci arrivati è un potente motore per la tua crescita personale professionale dove te pare comunque il voler di più non è per forza qualcosa di sbagliato devi stare attento appunto come dicevamo prima a che non diventi una spinta perché perché può diventare una malattia cioè molto banalmente ti può togliere il gusto può togliere il gusto delle cose che fai che ti porta sempre a rimuginare di continuo su quali ambizioni e traguardi più importanti no devi raggiungere in questo modo vai sempre a deprezzare a sbutare a criticare quanto di buono hai realizzato fino adesso e quindi quello che hai non ti basterà mai non sarà mai abbastanza quindi se stai provando questa cosa e dici non è mai abbastanza devi sempre fare è perché sei sotto questa abitudine mentale vuoi sempre di più quindi fermati fermati non dobbiamo confondere l'avere con l'essere il successo con il valore personale perché altrimenti il rischio è che non raggiungerai mai gli obiettivi perché te ne costruirai sempre un altro non riuscirai mai a godere di quello che sei di quello che sei ma io quando dico godere godere davvero c'è che ti fermi no cazzo sono stato bravo cazzo sono stata brava ho creato un festival di analisi stanzazionale partendo da zero dalla mia cameretta cioè da una connessione internet cioè quello che voglio dire è fermo che non vuol dire appunto andare nella nella reazione narcisistica della questione ma è saper riconoscere il proprio essere io sono ok quindi anche attraverso la competenza quindi anche un senso di auto-efficacia perché come diciamo sono dei fattori che si vanno comunque a intercettare tra di due perciò quindi oggi lo puoi fare anche da oggi sposta intensamente la tua attenzione da ciò che hai cioè scusami da ciò che non hai a ciò che hai quindi questo è importante quarto punto quarta secondo me abitudine poi voglio sentire quella anche degli altri le ultime due abitudini secondo me è anche la ricerca dell'approvazione ricerchiamo costantemente approvazione questo è normale scontato lo impariamo a fare da piccoli il consenso dei grandi cioè quanto è importante per un bambino piccolo ancora penso a mia figlia Anastasia che a volte mi guarda fa una bighellonata poi alza lo sguardo e guarda gli occhi di mia moglie o i miei per capire se cosa deve pensare rispetto a quello che ha fatto no i bambini hanno sempre bisogno di il consenso il problema qual è è che noi siamo adulti tu sei un adulto sei un adulta quindi in qualche maniera quello che mi vorrebbe dire è neutralizza la persona che più di tutti oggi ti condiziona qual è la persona che mentalmente ti condiziona di più magari non per forza ci deve essere una volta noi le introiettiamo queste presenze quindi qual è la persona che ti influenza di più e tu sai che sempre lì con te è il modo con cui hai imparato che è quell'occhio interiore con il quale hai imparato a giudicarti ecco chiediti come sarebbe la tua vita oggi se quella persona non ci fosse cioè se oggi potessi dire quella persona non esiste non fa parte della mia vita cosa faresti cosa faresti di diverso se non ci fosse quella persona come ti comportesti se non ci fosse stata quella persona nella tua vita oggi come vorresti comportarti io ancora mi ricordo quando ho fatto in maniera seria questo esercizio e c'avevo un amico in particolare che stimavo tanto ma che questa stima non era più una stima nutriente era un paragonarmi come diciamo prima in maniera eccessiva quindi andando a svalutare il mio modo di essere la mia autostima mi sono detto ma se lui non ci fosse più oggi come mi comporterei ecco a volte mi sono reso conto che avevo dei comportamenti molto più impostati molto più rigidi di quanto io avrei voluto perché dentro di me stavo usando l'immagine di questa persona per dirmi che è quello che stavo facendo e quello che volevo essere andava bene quindi cerca di individuarlo cioè in una persona ce l'hai sicuramente come sarebbe la tua vita come ti comportresti oggi se non ci fosse quella persona ultima cosa è la sindrome dell'impostore anche qui ce l'abbiamo tanto cioè qui vengo un pochino a snodare il punto iniziale almeno questo dal mio punto di vista ma prima la gallina l'autostima per fare le cose o bisogna fare le cose per avere l'autostima ecco io penso che sicuramente siamo in un circuito cioè c'è immaginatela come un diagramma circolare ognuno poi a un certo punto in influenza l'altro però quello che penso è che noi con la sindrome dell'impostore cosa ci diciamo in fondo? ci diciamo che non siamo sufficientemente in grado di poter fare quella cosa di poter parlare di quell'argomento di poter creare quel progetto ma quello che voglio dire è vai a guardare a tutti i casi di successo che hai ma non per forza quelli stratosferici mondiali quelli che hanno creato il business no 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 guarda anche semplicemente che hai intorno a chi reputi avere una vita di successo con il significato che mettiamo noi all'interno di questa prova cioè che sono stati in grado di far succedere le cose che volevano sono partite che con già tutte le competenze apparecchiate no te lo posso garantire non è così quindi è secondo me è il fare che permette di stimolare e alimentare la nostra il nostro senso di auto-efficacia quindi chiaramente anche in maniera positiva l'autostima perché poi andiamo sicuramente a intercettare anche il nostro modo di essere nel mondo cosa abbiamo imparato ad essere in questo mondo quindi secondo me in qualche modo si impara facendo magari adesso si attiveranno tutta la comunità scientifica degli psicologi del mondo d'Italia che mi chiederanno di chiudere il podcast perché ho detto questa cosa ma secondo me noi possiamo lavorare sul nostro senso di auto-efficacia per poter gradualmente lavorare sul senso più ampio dell'autostima quindi come hai potuto sentire io ti ho dato 4-5 abitudini mentali che secondo me ti impediscono e mi impediscono tante volte di avere stima in me e quindi con tanti consigli vorrei però dare microfono e tempo e spazio ai ragazzi di Academy sì io sono in linea con quello che hai detto all'ultima frase in cui spesso quando programmiamo di fare delle cose magari ci sono molte resistenze e non ne veniamo fuori io ho fatto dei cambiamenti agendo e poi dopo un po' di tempo mi sono accorto che quell'abitudine mi sarà instaurata ma inconsciamente è avvenuto mentre altre abitudini che sto cercando di instaurare consciamente sono bloccato quindi mi sembra di agire e superi la parte conscia oppure le resistenze che abbiamo e quindi secondo me agendo spesso otteniamo più risultati non so se ci sono poi abitudini da aggiungere sull'agire per renderli più efficaci guarda sulla gira secondo me ci stanno poi tutta una serie di cose che si possono fare che hanno a che fare appunto con l'organizzazione e la costanza come possiamo poi lavorare sull'abitudine dell'agire quello che abbiamo scelto di agire in che modo però mi piace molto questa cosa che dici perché vai a confermare poi con l'esperienza Massimo che è la cosa poi più importante di tutte vai a confermare con la tua esperienza un punto fondamentale che se ci mettiamo a tavolino a costruire la nostra autostima non ci riusciamo se invece nel mondo ci sperimentiamo e cominciamo a esplorare quando dico esplorare intendo dire cominciare a toccare il mondo cioè a fare quello che sogniamo di fare gradualmente anche il nostro inconscio risponde e si modifica quindi veramente gran bella esperienza adesso vedo anche Luca in questo momento che è attivo se vuoi dire la tua Luca è super positivo poi vedo che altri si sono dileguati per questioni di tempo Luca ci sei? sì ci sono stavo ragionando più che altro mentre ascoltavo quello che dicevi incasellavo un po' stamattina ho fatto il resoconto del mese passato e il mese passato è stato un mese molto particolare e toccavo un po' tutti gli aspetti che hai poi oggi elencato quando poi c'hai il momento di difficoltà in cui vedi gli altri che vanno avanti e tu dici ma se io sto rimanendo lì vado indietro perché dopo è facile magari quando uno elenca dire ah beh basta non guardare il confronto basta fare questo poi ci sono i momenti io li chiamo difficili in cui magari ci sono state tante cose insieme che ti hanno messo proprio un po' come si dice quando arrivi a livello basso dell'onda che incominci a vederle tutte non riesci a uscire dal circuito del valutarti in base a quello che fanno gli altri tutte queste cose che poi non sono positive né per l'autostima né per quello che fai nella vita e niente stamattina l'ho incasellata un po' tutte ho fatto una riflessione più a 360 gradi e poi ho un po' rimodulato quello che stavo facendo per poi ripartire e ricominciare a risalire e niente è stato interessante vedere come poi ogni volta quando parliamo si va a rivedere cioè tu perlomeno mi metti in elenco tutto quello che penso e rifletto che dentro di me è sempre una grossa confusione e tu invece gli dai sempre un incasellamento molto specifico è bellissimo questo Luca io volevo aggiungere una cosa importante rispetto a quella che dici tu tu hai detto nei momenti difficili è proprio difficile non confrontarsi giusto con l'altro per non andare a paragonarsi quello che io ho trovato molto utile per esempio nel mio progetto digitale che è stato questo podcast per esempio nei momenti in cui vedevo gli altri andavano a mille all'ora ho fatto una cosa non mi sono soltanto paragonato noi distinguiamo questo processo un punto è paragonarsi un punto è confrontarsi secondo me il confrontarsi è il rovescio sano della medaglia paragone cioè mentre ci paragoniamo agli altri ma facciamo una valutazione tutta nostra senza sapere minimamente l'altro che viaggio ha fatto che esperienza ha fatto qual è la ricchezza che gli ha permesso di arrivare lì dove è oggi ma prendiamo l'output e lo appiccichiamo addosso a noi vediamo in qualche maniera chi sta messo meglio quindi ci paragoniamo punto e stop quindi paragoniamo una abitazione tossica che toglie autostima il confrontarsi invece secondo me è il rovescio la medaglia positivo c'è a che fare con ok vedo lui sento che vorrei anche io andare in quella direzione lo contatto e gli chiedo senti un po' sto passando questo elemento qua ma tu come hai fatto cioè io ho trovato molto molto importante rintracciare delle persone che io ho reputato quindi tra la famosa legge per cui siamo la somma delle cinque persone che ci mettiamo intorno in un certo senso a un certo punto nella vita adulta noi possiamo scegliere chi metterci accanto e io nel tempo ho deciso chi volevo avere accanto perché? perché nel momento in cui naturalmente come abbiamo detto prima come bias cognitivo la mia mente va a fare i paragoni per non fare per non diventare vittima del paragone che abbiamo detto essere l'abitudine tossica e qualcuno che sta vivendo un video simile al mio che magari è più avanti rispetto a questo io mi permette di fare il confronto cioè chiedergli oh ma tu quando senti arrivi in questo momento difficile che cosa hai fatto? perché magari l'altro proprio perché è più avanti ha già vissuto delle esperienze come le nostre e magari ha già trovato una soluzione e è nel confronto che poi si crea l'incontro con l'altro e solo nell'incontro con l'altro può esplodere la ricchezza di questo parleremo al festival della classe transazionale 2022 perché vi ho mezzo spoilerato un pezzettino del mio speech introduttivo quindi in qualche modo ne riparleremo però grazie Luca perché sarà una bella considerazione Altarella non so se tu vuoi aggiungere la tua prima che chiudiamo no no io sono d'accordo con quello che hai detto ora non so il discorso di prima però nelle relazioni per avere il confronto e non cadere invece nel com'è nel paragone nel paragone ci vuole anche un po' di umiltà e quindi mettersi accanto all'altro ed essere magari non so qualcosa oppure voglio capire la dinamica di un comportamento eccetera di una persona che l'ha già passata prima di me eccetera sì ci vuole anche un po' di umiltà e anche un po' di coraggio perché magari delle persone ci possono pure spaventare per come sono preparate per le cose che sanno eccetera e invece per quanto riguarda l'analisi transazionale allora Matteo il primo giorno è online vero? Il secondo dal vivo? Buona 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 perché stiamo registrando un podcast quindi allora facciamo in questa maniera adesso parliamo separatamente stacco la registrazione sto per staccare la registrazione intanto io veramente ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato questo episodio fatto come vedete è meglio che perfetto e portiamo ogni ostacolo alla nostra autostima ma lo consideriamo comunque come buono questo episodio sono molto molto contento perché oggi incontro con i ragazzi di Academy mi ha permesso di tornare a fare podcasting così come mi è sempre piaciuto quindi parlando di psicologia è stato bello perché è stato più arricchente avendo tante voci all'interno di questo spazio perché è sempre sempre bello che il podcast sia Matteo riferito e basta ma che ci sono anche altre persone che seguono questo progetto quindi io ringrazio Antonella ringrazio Luca ringrazio Massimo ringrazio anche Scilla che era prima collegata con noi e vi do anche a voi l'appuntamento al prossimo episodio sempre qui non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il potere di cambiare accetta il tuo passato vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia tutta la tua energia perché la tua vita migliora perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare quando sei tu a migliorare questo è Liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni e che non sia tu a te a cura di Matteo Neroni e che non sia tu a te di più che non sia tu a te